ma buongiorno recuperatrici e recuperatori di libri dal passato oggi parlo di fumetto la mia ossessioncina fin da quando ero bambino la domanda oggi è che cos'è che cos'è il fumetto è giusto chiamarlo graphic novel è giusto usare ancora una parola inventata da hugo pratt disegnatore di fumetti che era un grande maestro e che inventò il termine letteratura disegnata oppure forse è il caso di dirla come dice pasolini che i maestri sono fatti per essere mangiati e quindi superati cerchiamo un po di orientarci in tutti questi stimoli tutte queste domande allora perché nasce questo discorso di oggi cari ciccette e cari ciccetti tempo fa parlavo con una scrittrice di 35 anni che ha pubblicato un romanzo letteratura pubblicato da una casa editrice che gli dà una distribuzione nazionale quindi diciamo che sulla carta lei è una scrittrice in piena regola si parlava un pochino con lei di che cosa faccio io quando ho detto che faccio graphic novel quindi quindi fumetto d'autore lei sapeva che c'era la definizione di hugo pratt letteratura disegnata quindi lei sapeva che letteratura disegnata è il graphic novel sapeva questo ma lei pensava che letteratura disegnata fosse praticamente un libro illustrato cioè come dire anche un libro illustrato per bambini quindi lei pensava questo letteratura disegnata è un libro illustrato mo che sia per bambini mo che sia per adulti quella fosse alla fine l'oggetto libro il tipo di narrazione che ne esce fuori ecco la sua credenza era qualche cosa di sbagliato perché perché il graphic novel no la letteratura disegnata non è un libro illustrato ecco il libro illustrato si chiama così libro illustrato se no appunto se no è graphic novel ma sono due cose totalmente diverse a me dispiace che questa scrittrice che viene pubblicata che viene candidata ai premi che viene intervistata su quotidiani pensa che la letteratura disegnata sia il libro illustrato mi dispiace mi sembra un impoverimento culturale cioè cioè è come se uno scrittore di oggi non sapesse che cos'è il videogioco allora io dico ok io posso dire i videogiochi i videogiochi non mi interessano i videogiochi non ci gioco i videogiochi non me ne intendo per esempio io veramente non ci gioco non me ne intendo da piccolino c'ero appassionato e oggi non me ne frega più niente però però almeno almeno sapere che cos'è un videogioco e non scambiarlo per un'altra cosa potrebbe essere utile nel orientarsi dolcemente nei linguaggi moderni tutt'al più che il graphic novel o letteratura disegnata è uno dei linguaggi più fervidi pulsanti vibranti che abbiamo in questa società moderna perché ugo pratt ha sbagliato perché allora quando lui usa il termine letteratura disegnata quello serve in un momento storico per contraddistinguersi dal topolino dal tex del momento quindi quindi lui dice e non faccio topolino e non faccio tex io faccio letteratura disegnata e va bene ok però se uno pensa meglio a questo termine letteratura disegnata per parlare di fumetto e ne fa un corrispettivo con altri linguaggi allora ci sentiremmo di dire che il cinema è letteratura filmata cioè se noi pensiamo anche a dei film o grandi film che derivano da romanzi un esempio così il padrino o c'era una volta in america ecco due esempi di film famosi in tutto il mondo capolavori assodati basati su due romanzi no ecco ma chi è che potrebbe dire che il padrino è letteratura filmata ci sentiremmo di chiamare c'era una volta in america letteratura filmata no no sentiremmo che c'è qualche cosa un po che scricchiola oppure che Walt Disney o Miyazaki fanno letteratura animata quindi il termine per il fumetto d'autore letteratura disegnata sta un po stretto però concretamente che cosa fa il fumettista ecco me lo sono domandato per 40 anni adesso io li compirò ad agosto che arriva però a quasi 40 anni forse ma non è sicuro ho capito che cosa fa il fumettista essenzialmente fa montaggio su carta e vi porto due esempi vi porto due esempi di due autori assolutamente geniali l'italiano guido crepax e l'americano bill watterson crepax è quello che ha fatto valentina partiamo da però dall'americano watterson watterson è l'inventore di calvin e hobbs capolavoro amato in tutto il mondo calvin hobbs si svolge a strisce e origine originale americano le strips comunque le strisce esattamente come snoopy charlie brown quindi vi porto un esempio semplicissimo anche se noi abbiamo questo sono due strisce una sopra l'altra anche se noi abbiamo questo caso per esempio anche la striscia in basso con la stessa inquadratura nella prima nella seconda vignetta e la stessa inquadratura praticamente nella terza nella quarta vignetta anche in questo sul seguirsi di inquadrature così semplice abbiamo un montaggio su carta e abbiamo anche una regia o comunque ecco ora riporto da questa semplicità un altro esempio di complessità del montaggio ed è appunto il valentina di guido crepax questo è un libro stampato ai mister anni 80 valentina sola crepax ha dedicato tanti libri a valentina che tra l'altro un personaggio che con gli anni invecchia anche gli vengono le rughe i capelli bianchi molto interessante modernissimo ok ma qui discorso il montaggio ecco qui una doppia pagina dove il montaggio di crepax sofisticatissimo complesso perché fa delle citazioni delle avanguardie cinematografiche e tante cose ecco che essenzialmente non c'è differenza nella natura di ciò che stiamo vedendo tra questo montaggio elaborato e complesso oppure il montaggio vi faccio vedere prima di calvine hobs perché è questo è questo care ciccette e care ciccetti il fumettista fa montaggio su carta conoscete un filmuzzo che toroscatenato che è un pochettino questo qua ecco non so se lo sapevate martin scorsese regista di questo film dopo che ha girato il film in collaborazione con la sua montatrice telma schumacher ha impiegato un anno di tempo per montare questo quindi per fare questo montaggio si sono presi un anno ed è una cosa che può avvenire può avvenire nel cinema può avvenire nella lavorazione del film ma non può avvenire nel fumetto cioè nel fumetto ecco perché dico che il fumetto è montaggio su carta tu nel fumetto puoi sostituire delle cose puoi attuare delle modifiche però non puoi stare non puoi stare un anno a montare delle cose che tu hai fatto prima cioè non ha proprio senso il montaggio lo devi lo puoi un pochettino prevedere a livello di storyboard che sono i disegni preparatori sono proprio le inquadrature preparatori il montaggio preparatore che un fumettista può fare una volta una volta si chiamavano boffe comunque il termine americano è storyboard che viene usato anche nel cinema però una cosa del genere non puoi stare un anno a montarla la devi la devi pensare subito sul momento quindi la difficoltà che ha a livello di gestione per le mani il fumettista è abissolment più complessa rispetto a quella del cinema perché con il cinema hai tempo puoi montare dopo puoi fare come scorsesino che si prende un anno per montare questo capolavorino col fumetto no quindi grafic novel che letteralmente significa romanzo grafico è un termine riduttivo innanzitutto per dirne una perché esistono anche fumettisti che a livello di lavorazione sulla pagina non fanno nulla di vagamente grafico perché lavorano con i pennelli ci sono graphic novel fatte in tutto il mondo che sono tecnicamente dipinte quindi allora dovresti chiamarlo painting novel innanzitutto perché non c'è più nulla di grafico non ci sono più quei colori piatti di una volta non so dei vecchi fumetti per intenderci non so per dire il vecchio batman a colore con quei colori piatti l'azzurrino piatto così che dà un senso di grafico quelle cose lì non ci sono più quindi quindi ci sono appunto approcci al fumetto pittorico che non rientrerebbe più nel marchio graphic novel a farla breve tirandole insomma e di questo discorso qui qua qua io appunto detto che hugo pratt il grande maestro ha sbagliato che letteratura disegnata è un termine riduttivo e fuorviante direi che il il fumetto lo si può chiamare in qualsiasi sia la sua declinazione sia che sia topolino sia che sia tex sia che sia la pimpa sia che sia dylan dog o che sia gipi andrea pazienza o i grandi autori così ogni tipo di fumetto è storia montata su carta questo direi che potrebbe essere una definizione non fraintendibile in alternativa volessi complicare un pochettino le cose uno puoi dire che fai regia e montaggio su carta ecco però lì vai ad allungare ecco sicuramente il termine graphic novel ha funzionato perché sono due parole è un termine pubblicitario e quindi funziona nella sua brevità come anche letteratura disegnata funziona nella sua brevità però le cose scricchiolano cioè non basta più definirle così quindi direi che se uno dice che fai nella vita faccio storie montate su carta poi ci potremmo avvicinare forse più o meno ma non è sicuro a una sorta di verità che poi nel nel terreno slittante fluttuante delle narrazioni le cose prima o poi saranno ancora da da rivedere e ridefinire se c'è il caso se c'è il caso ad ogni modo tutti questi discorsi sono per il puro piacere di giocare a parlare di processare un'ossessioncina per il fumetto così che sebbene io parli nel mio canale abbastanza poco di fumetto orientandomi molto di più sulla letteratura e sul cinema però il fumetto rimane il mio primo amore e quindi fondamentalmente ancora occupa una grande parte dei miei pensieri della mia giornata se volete fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate se vi siete mai sentiti partecipi di queste etichette letteratura di letteratura disegnata graphic novel fumetto d'autore queste cose qui fatemi sapere il vostro punto di vista se volete cerco di rispondere a tutti e praticamente ci sto riuscendo per il momento è tutto io vi ringrazio e vi auguro una bella buonanotte ciccette buonanotte ciccetti anche se la giornata è stata ancora dolcissima a presto grazie grazie